Giocate ieri, Grosseto Empoli 0-1, Cesena Verona 0-0, oggi Ascoli Modena 2-3, Bari Lanciano 4-3, Cittadella Padova 3-3, Crotone Provercelli 2-1, Juve Stabia Spezia 2-1, Novara Vicenza 3-1, Sassuolo Brescia 1-1, Ternana Regina 1-0, Varese Livorno 1-3. Per questa classifica Sassuolo 74 punti, Livorno 70, Verona 68, Empoli 60, dunque fino a questo momento i playoff si disputerebbero. Novara 56, Varese 52, Brescia 50, Juve Stabia 48, Modena 47, Ternana e Crotone 46, Cesena 45, Padova 44, Bari e Cittadella 43, Spezia e Lanciano 42, Reggina 41, Ascoli 40, Vicenza 32, Provercelli 28, Grosseto 23 punti. Il Novara insegue la sua sesta vittoria consecutiva e il sogno playoff, reso ancora più reale dalle sentenze della giustizia sportiva che hanno restituito due punti agli azzurri. In vista del turno infrasettimanale, Aglietti fa un po' di turnover in difesa lasciando a riposo Ghiringhelli e Colombo. Il Vicenza in piena crisi vuole invece punti salvezza. Dal canto deve però fare a meno di Castiglia e Semioli, due dei suoi uomini migliori. Arbitra cervellara da Taranto, parte naturalmente l'attacco al Novara e dopo due minuti è Fernandez a impegnare Bremez con un tiro cross dalla destra. Solo un brivido per la difesa e Vicentina, insistono i padroni di casa. Al dodicesimo c'è questo duetto tra Lazzari e Seferovic, la palla di ritorno verso il Bosnia che è però lunga e Bremez può controllare il pallone. Al diciannovesimo a provarci e invece Capitano Lisuzzo su azione di calcio d'angolo, la palla sorvola la traversa. Al ventunesimo González si libera sulla destra e cerca la testa di Lazzari e centroarea, Bremez l'anticipa di un soffio. Poi una fiammata degli ospiti, da questo calcio d'angolo Cinelli cerca la conclusione, le proteste dei Veneti per un sospetto fallo di mano di Perdicona e centroarea, anche il replay però non chiarisce. L'episodio mette coraggio gli uomini del canto, Giacomelli cerca il gol da fuori aree. Poi al ventiseiesimo dal calcio d'angolo, prima un salvataggio di pesce sulla linea, poi Gentili non sbaglia, vantaggio a sorpresa del Vicenza per il terzo gol in carriera del difensore. Veneto, il Novara accusa il colpo e il Vicenza prova ad approfittarne. Al trentacinquesimo Cinelli sfiora il palo alla destra di Bardi. Il Novara poi si scuote, al trentanovesimo pesce fa correre Lazzi in area, l'attaccante prende la mira e non sbaglia. Uno a uno è parità ristabilita con il quinto gol stagionale di Flavio Lazzari. Una rete meritata soprattutto per quello che il Novara ha fatto vedere nella prima parte della gara. Poi rotoli incantesimo, gli azzurri cercano di riportarsi in vantaggio, pesce da fuori aree a Bremez in calcio d'angolo. E il tempo si chiude con i padroni di casa ancora alla ricerca del vantaggio, questo calcio di punizione di González però finisce a lato. Squadra è dunque a riposo sul uno a uno, risultato forse sorpresa ma comunque giusto per la determinazione messa in campo dal Vicenza. Nel montaggio di Paola Bovolenta andiamo alla ripresa, dopo due minuti c'è la gran botta di Buzegoli da fuori aree a respinta di Bremez. Fernandez si divora una clamorosa occasione da rete, non eccezionale oggi la prova del portoghese. Dal decimo minuto Ciaramintaro e Padalino, lo vedete, affondano Seferovic in area, cervellara non ha dubbi e dice che calcio di rigore, poche proteste anche da parte degli ospiti. Dagli 11 metri si presenta Buzegoli che sta attraversando uno straordinario momento di forma e non sbaglia. Novara dunque in vantaggio con il quinto gol stagionale del suo centrocampista. Rimonta completata e Azzurri che cercano il gol della sicurezza. Al ventitresimo Pesce mette a centro area, González e Seferovic non agganciano. Ma è questione di minuti, al venticinquesimo González lo avete visto, si inventa uno dei suoi numeri e dal limite dell'area beffa Bremez con un delizioso pallonetto. Pareva in ombra González, Sozzi e invece l'argentino ha tirato fuori dal cilindro la sua quattordicesima magia stagionale. Rete che chiude virtualmente la gara, il Vicenza prova a non arrendersela a mezz'ora. Malonga sulla desca, cerca la testa di Bojinov anticipato da Lisuzzo prima di poter colpire. E poi ancora Mustacchio al quarantatresimo cerca fortuna ma Bardi in uscita gela le sue velleità. Sempre attento al portiere dell'Under 21, nel replay apprezziamo la sua ottima scelta di tempo. Poi al quarantacinquesimo Seferovic sale più alto di tutti ma il suo colpo di testa finisce alto, resterà a bocca asciutta. Oggi Seferovic la partita termina con il Novara che prosegue la sua rincorsa verso i play-off. Mentre per il Vicenza la notte è sempre più fonda. Oggi non si è visto il Novara brillante delle ultime prestazioni. Probabilmente era Novara in alcune fasi della gara si è fatto preferire il Vicenza. Per quel che riguarda il migliore in campo torniamo a scegliere Buzzegoli. È stato il migliore del centrocampo novarese, il vero ispiratore della manovra. Ribadisco al finale da Novara. Novara batte Vicenza tra uno. A te Andrea Fusco. Novara Vicenza è sfida degli opposti, accomunati però da una spasmodica necessità di conquistare i tre punti. Piemontesi a caccia della sesta vittoria consecutiva per provare ad abbracciare il sogno play-off. Veneti che con una serie disastrosa, un punto in cinque partite, hanno in buona parte compromesso i benefici del buon periodo trascorso tra febbraio e marzo. Novara che parte con maggiore decisione, provando subito a impensierire la porta di Bremec su situazione da palla inattiva. Con il colpo di testa di Lisuzzo che termina alto e quindi con la combinazione tra Gonzales e Lazzari che trova pronto il portiere dei Berici. Una partita gradevole ma apparentemente in mano ai padroni di casa e che viene invece improvvisamente sbloccata dal Vicenza al 27esimo. Situazione da calcio d'angolo, colpo di testa di Bellazzini, pesce e salva sulla linea. Arriva però dalle retrovie la poderosa conclusione di Cinelli, forse deviata che non dà scampo a Bardi. Primo gol in serie B per il centrocampista Scuola Lazio. Il Novara, consapevole della propria forza, riesce a rimettersi immediatamente in careggiata con la splendida azione che consente a Pesce di imbeccare sulla sinistra Lazzari. Il conelassonato per lo tempo indicativo la Bollandes, accordi al Minari. Non si usa ovviamente Buzegoli che dagli 11 metri spiazza Bremec e timbra il suo quinto gol stagionale, il quarto nelle ultime tre partite, media da Bomber consumato. Chi Bomber lo è per davvero è Paolo Gonzales, che al settantesimo non perde occasione per lasciare il segno sulla partita, con un controllo impetuoso seguito da un morbido ma potente appoggio di sinistro per il 3-1 finale. Centro numero 14 per il Bomber di Tandil, che esattamente come due anni fa sta provando a prendere per mano un Novara rigenerato dalla cura Aglietti, capace di esprimere in pieno tutto il suo potenziale offensivo. Per il Vicenza uno stop che assomiglia a una resa e a una retrocessione che inizia a prendere forme sempre più concrete.